Andrea! Andrea! Andréa! Andréa una foto! Mister! Andrea! 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 Mister! Davanti, avanti! Scusami, non davanti! Scusami, non davanti! Grazie mille Andrea! Ciao, ciao, ciao! Ciao Andrea! Forse ce l'ho fatta a noi! Perché non ha la gira che la può fare? No! Tudor! Igor! 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 Tudor! Non so neanche se ho fatto la foto, forse! Una firma, per favore! Una firma! E' un giocatore! E' un giocatore!